Benvenuti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video oggi andremo a vedere una partita che è stata giocata nel 2014 fra Bill Gates col bianco e Magnus Carlsen con il nero abbiamo due menti eccellenti sulla scacchiera uno dal punto di vista imprenditoriale anche filosofico culturale dall'altro abbiamo chiaramente il campione del mondo di scacchi indiscusso probabilmente il più forte giocatore degli scacchi mai esistito forse dopo il grande Bobby Fischer e dopo Casparo ci mettiamo il casparo va sempre messo ragazzi non ditemi nulla ma va messo da qualche parte detto ciò andiamo a vedere come è andata questa partita e in quante mosse il campione del mondo è riuscito a far fuori il povero Bill andiamo a vedere e 4 apre Bill Gates cavallo c6 difesa Nizmovic si chiama questa è una difesa strana poiché permette subito al bianco di controllare il centro non è questa la mossa che gioca Bill Gates ma esaminiamo questa continuazione ora il bianco ha il controllo pieno di tutte le case centrali e semicentrali per questa ragione questa difesa non è ritenuta la migliore in assoluto si può rientrare in una sorta di scandinava tramite d5 poi qui il bianco può decidere se cambiare spingere o sviluppare il cavallo vabbè comunque la partita non andò così cavallo f3 e ora d5 d5 proponendo subito un cambio al centro e già qui il bianco gioca al fiere d3 al fiere d3 fa subito capire che Carlsen non ha davanti a sé un avversario esperto un avversario che sicuramente sa alcuni principi sicuramente sapeva il principio di arroccare il prima possibile infatti ha spostato il cavallo ha spostato subito l'alfiere ed è pronto ad arroccare ma bisogna sapere anche dove metterli questi pezzi l'alfiere in d3 purtroppo non ha alcuna funzione se non una funzione passiva cioè di difesa su questo pedone nei 4 non solo adesso con cavallo b4 il nero riesce a sbarazzarsi di questo alfiere di doppiare i pedoni ma il pedone d4 è anche bloccato per eventuali spinte quindi è veramente bruttina questa mossa che permette subito al nero di andare in vantaggio ovviamente Carlsen capendo il livello dell'avversario davanti non vuole semplificare i pezzi poiché più semplifichi e più possibilità di pattare ai o comunque più tempo ci metti a dare scaccumato perciò ha giocato in modo molto aggressivo con cavallo f6 aumentando la pressione su questo pedone centrale Bill non se la sente di rischiare ciò che togliamo la pressione catturo ed on in d5 esaminiamo la posizione a mente lucida e vediamo che il nero sta molto bene ha sviluppato entrambi i cavalli adesso è pronto per togliere l'alfiere e fare un bel arrocco lungo i pedoni sono tutti in settima traversa e prima o poi ci sarà sicuramente la spinta di pedoni in e5 mentre il bianco il pedone in e non c'è più e il pedone in d è bloccato dal proprio alfiere una mossa veramente tragica inoltre in questa situazione il bianco non può nemmeno giocare c3 per sorreggere d4 e far rifugiare l'alfiere in c2 poiché a seguito di c3 la donna potrebbe catturare l'alfiere è un bel casino cavallo c3 è la mossa di Bill Gates per minacciare la donna del campione del mondo che va in h5 in h5 ha lo scopo appunto di aiutare l'attacco del proprio alfiere g4 e quindi puoi andare ad arroccare lungo arrocco corto e adesso alfiere g4 ora c'è una minaccia impellente su questo alfiere poiché dopo il cambio immaginate insieme a me cambio su cavallo cambio di donna cambio di donna pedone qui e otteniamo poi un'impedonatura è un vantaggio decisivo nel finale h3 ancora una volta la mossa migliore era cambiare per ottenere appunto questa impedonatura ma 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 l'obiettivo di Carlsen non era quello di vincere il finale ma di vincere in poche mosse dunque cavallo in e5 bellissima mossa aumenta ancora di più la pressione su questo cavallo ora è vero c'è un alfiere sotto infatti Bill Gates gioca questa mossa ora cavallo per g4 l'idea è quella di supportare la donna per un matto su h2 ovviamente prima bisogna sbarazzarsi di questo cavallo f3 che controlla il punto h2 chi è che si dovrà sbarazzare di questo cavallo? il nostro cavallo nero ovviamente no? e quindi c'è un possibile attacco di matto qual è la soluzione corretta? è quella di giocare torre 1 per permettere al re nero dopo donna h2 di avere una via di fuga questa era la mossa che avrebbe permesso al bianco di stare in vita anche molto bene ma l'ingenuo Bill decide di catturare un cavallo molto ingenuamente contro il campione del mondo e adesso la soluzione ditemela voi è chiaramente donna h2 ok in 9 mosse Bill Gates ha perso una partita ce ne vuole a perdere 9 mosse questo sa significare ancora una volta e rafforza di più la tesi che io dico spesso nei video l'intelligenza scacchi è minima conta veramente nulla ciò che conta è l'esperienza di gioco capire come funzionano i pezzi quali sono le posizioni migliori dei pezzi come si valuta una posizione in che modo si può creare un buon piano di gioco in che modo appunto si formano i piani in base alle strutture di pedoni eccetera eccetera tutte queste cose qui sono cose che non si imparano in un mese non in due mesi non in un anno ma gli scacchi è un gioco così profondo che bisogna allenarsi 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 esercizi di tattica eccetera eccetera quindi non demordete ragazzi se non vedete subito i risultati e non è solo giocando che si migliora ma soprattutto studiando se volete approfondire venite a trovarci nell'accademia di scacchi bene io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui come al solito vi invito a lasciare un like un commento e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto noi ci vediamo domani con un altro nuovo video ciao e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao